Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta, freddo e gelo. Buonasera cari telespettatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione. Ed è purtroppo un'informazione che parla molto di virus questa sera. Abbiamo in apertura un'intervista che abbiamo registrato alle 12 di oggi, 28 dicembre, con il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, che si era recato in ospedale per capire di persona come stanno andando le cose, visto che anche stamattina c'era una lunga coda di auto che dal bivio delle ghiaie raggiungeva poi la strada che porta all'ospedale. In realtà le cose non stanno andando bene, non ci sono buone notizie, sono più di 70 i contagiati e i nuovi colpiti dal virus. Stamattina sono stati effettuati esattamente 140 tamponi e si aspetta appunto il risultato di questo. Adesso noi vi diamo conto dell'intervista che abbiamo registrato alle 12 e poi vi parleremo di un aggiornamento che c'è stato poco prima della nostra messa in onda. Vediamo il servizio con Angelo Zini che racconta al microfono di Antonella Danesi la situazione frizzata a mezzogiorno. Sindaco, partiamo dai risultati che sono arrivati oggi, sono stati processati i tamponi di ieri? Sì, sono passato ora negli uffici dell'ASD, sono arrivati praticamente tutti i risultati di ieri, avevamo fatto più di 160 tamponi, 164. Al momento, salvo ulteriori verifiche, abbiamo 59 positività sui tamponi effettati ieri, quindi un numero che fa schizzare in alto il dato dei positivi su tutto il territorio. Siamo sicuramente oltre 200 casi attualmente presenti. Come vedete qui c'è un'ulteriore fila di macchine anche stamattina, faremo più di 100 e passa dei tamponi anche stamattina. Quindi la situazione sta diventando molto molto critica. Ecco, sono che so, prevedete provvedimenti o sanitari o amministrativi, restrizioni? Sì, ma ora stavamo parlando con il direttore sanitario, il dottor Genghi, mentre ero sopra. Ci rivedremo anche in giornata. Sicuramente alcune misure cautelative all'interno dell'ospedale verranno prese, per esempio per quanto riguarda le visite ai degenti, per quanto riguarda monitoraggio d'affari sul personale sanitario. Sicuramente sì, qualche misura andrà sicuramente presa per salvaguardare, come abbiamo detto, il nostro ospedale, perché questo è l'obiettivo principale. È ritornato ad essere l'obiettivo prioritario, quello di tenere indenne il nostro ospedale. Il personale in questo momento è veramente sotto pressione, l'ho vissuto con i miei occhi. Contemporaneamente si sta facendo postazioni per le vaccinazioni, terze dosi, richiami, diverse persone per fortuna stanno arrivando anche per farsi la prima vaccinazione e contemporaneamente altro personale sta facendo i tamponi. Quindi insomma è una situazione di stress, di pressione e quindi l'appello è ancora a tutti i cittadini. Quindi insomma abbiamo coscienza tutti che stiamo vivendo nuovamente un momento di criticità e bisogna darsi una mano tutti. L'unica buona notizia, come ci risulta, è che non ci sono comunque casi gravi, per ora è tutto sotto controllo. Sì, questa notizia che sta arrivando è questa. Purtroppo abbiamo un positivo anche nei medici USCA, quindi questo ulteriormente appesantesce la situazione del servizio di monitoraggio. Però sì, le notizie che arrivano sono di situazioni sanitarie tranquille, insomma, non ci sono da questo punto di vista emergenze gravi. Sindaco, vi siete fatti un'idea, a parte il contagio fisiologico, di come può essere avvenuto questo boom anche qui da noi? Sicuramente il problema, inizialmente quando abbiamo cominciato ad avere casi in maggior numero, l'idea a cui pensavamo era di persone che ritornavano da fuori, da alcuni viaggi, a qualcosa anche dall'estero. In questo momento invece i contagi sono ormai su tutto il territorio urbano, perché sono compresi tutti i comuni, tutte le fasce d'età, anche se mi pare di aver visto in particolare, si tratta soprattutto più sulle fasce più giovani in questo momento. Certamente credo che le relazioni sociali che si sono maggiormente intensificate in questo periodo natalizio di festività abbia contribuito in maniera particolare. Come vi avevo accennato in apertura del telegiornale, poco prima della nostra emessa in onda c'è stata una diretta Facebook condotta dal sindaco di Portoferraio che ha voluto dare gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid. Come avete visto sono quasi 80 i casi che sono stati accertati durante i tamponi che sono stati effettuati nella giornata di ieri, adesso si aspettano i tamponi di oggi che sono stati 140. Ma il sindaco ha anche detto di essersi confrontato con i suoi colleghi, gli altri sindaci degli altri comuni per capire se per caso c'era da adottare delle misure diverse, forse più stringenti in ogni comune, visto l'evolversi della situazione. Questo non è successo, a parte Capoliveri di cui vedremo conto nel prossimo servizio, gli altri comuni, compreso Portoferraio, non metteranno mano ad azioni diverse da come siamo messi in questo momento. Ma se la situazione dovesse peggiorare, i casi dovessero continuare ad alzarsi, probabilmente qualche altra soluzione verrà trovata. E adesso vediamo a Capoliveri come sono andate le cose invece dopo l'ordinanza, come vanno le cose dopo l'ordinanza del sindaco Montagna che chiuderà i bar alle 9 e i ristoranti a luna. Alla luce del continuo incremento di casi di positività di Covid-19 su tutto il territorio dell'isola d'Elba, a Capoliveri è stata emessa l'ordinanza sindacale con cui a titolo precauzionale è disposta la chiusura e la sospensione dell'attività degli impianti sportivi di tutto il territorio comunale di Capoliveri, nonché la chiusura dell'attività dove si svolge somministrazione di alimenti e bevande, tutti entro le ore 21. Il provvedimento, valido fino a nuove disposizioni e con effetto immediato, prevede la chiusura e la sospensione precauzionale delle attività all'interno degli impianti sportivi del Comune e nello specifico della palestra comunale nuova, della palestra pesistica, del complesso del campo sportivo di località Vaccarelle. Disposta anche con effetto immediato la chiusura di bar, pub ed enoteche entro e non oltre le ore 21, ad eccezione dei soli ristoranti. Per il 31 dicembre è disposta la chiusura dell'attività di ristorazione come ristoranti, bar, enoteche e pub entro e non oltre le ore 1 del 1 gennaio. Il Comune di Capoliveri fa sapere anche che le misure potranno essere rese più restrittive a partire dal 31 dicembre, a seconda dell'andamento della curva epidemiologica di carattere locale. E' inoltre disposto l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto, nella zona bianca, nonché rispetto delle norme del mantenimento del distanziamento sociale, in particolar modo nelle attività di servizi di ristorazione. E c'è anche il divieto di assembramento. Restano ferme tutte le misure nazionali relative al contenimento del rischio di diffusione del virus. Chiudiamo per il momento la pagina del Covid e torniamo a parlare di una notizia che ha fatto molto scalpore nella giornata di ieri, è successo il giorno di Natale, ovvero la scritta offensiva nei confronti del primo cittadino di Portoferraio. C'è un intervento del suo collega, sindaco di Marciana, Simone Barbi, che esprime la massima solidarietà al sindaco di Portoferraio, sia come uomo che come politico. Il linguaggio e gli atteggiamenti sempre più offensivi verso chi si dedica compassione, coraggio e spirito di sacrificio alla missione politica, dice Barbi, sono il sintomo preoccupante di un degrado morale che porta a non riconoscere più le figure cardine della nostra società. Esprimere il proprio dissenso, quindi esercitare uno dei diritti inviolabili sui quali si poggia la nostra democrazia, non può tradursi in espressioni contrarie al decoro e lesiva al diritto e alla reputazione di ognuno di noi. Cambiamo completamente argomento, vi raccontiamo di un'iniziativa di solidarietà che si è svolta nei giorni scorsi, dopo un anno di sosta infatti è tornato il ballo della solidarietà della danza sportiva della scuola Tipta One, Tipta One, che si è svolto al circolo ricreativo di Carpani con la partecipazione nell'osservanza delle norme anti-covid da parte di amici allievi e i maestri della scuola. Insieme alle esibizioni di gruppi di coppie, maestri Franco e Antonella Ascione hanno voluto offrire i riconoscimenti a due importanti realtà che operano sul nostro territorio, sono Diversamente Sani, e Open Your Earth, ovvero Jazzercise. Nel corso dell'incontro si sono anche esibiti alcuni ragazzi della scuola Diversamente Abili che seguono le lezioni di Franco e Antonella. Nella fine i maestri hanno ringraziato tutti coloro che li seguono e seguono le loro iniziative. Adesso ci spostiamo e andiamoci direttamente al cinema per alleggerire un telegiornale che già di per sé è pesante come quello che vi stiamo proponendo. Andiamo al cinema con gli appuntamenti di questa fine anno sia a Capoliveri che a Portoferraio. Ricco il programma di appuntamenti per i due cinema elbani per questi giorni di fine anno 2021. Al Nello Santi di Portoferraio in programma House of Gucci, giovedì 30 dicembre alle ore 21.30, così come sabato 1 gennaio. Domenica 2 gennaio invece doppia proiezione alle 18 e alle 21.30. Sognate in grande! In cartellone anche Sing 2, giovedì 30 e sabato 1 gennaio alle 17.30 e domenica 2 gennaio alle 16.00. Al cinema Flamingo di Capoliveri Sing 2 è in proiezione mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio alle ore 18.00. In programmazione anche Diabolic, mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 31 dicembre, sabato 1 e domenica 2 gennaio alle ore 21.30. Lunedì 3 gennaio invece è alle 18.00. Domenica 2 gennaio arriva anche Me contro te alle 15 e alle 16.30, mentre lunedì 3 gennaio è in programmazione alle ore 18.00. Adesso ci lasciamo 30 secondi di pubblicità. Anche 2 gennaio. Non ci sono altre notizie, chiudiamo qui il nostro telegiornale. Vi ricordo che gli aggiornamenti eventuali li potete seguire sul giornale online www.elbapress.it. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.